buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 31 agosto 2024 anche il mese di agosto se ne va una mese molto molto estivo molto molto caldo vacanziero per chi ha potuto concedersi un periodo di riposo invece un po faticoso perché appunto per il caldo per chi ha dovuto lavorare non ha interrotto il suo trantran quotidiano è un mese che lasciamo così senza rammarico addentrandoci nel mese di settembre un mese che come ho sempre detto che quando c'è bel tempo è un mese molto molto più gradevole in quanto la temperatura è più temperata rispetto ad agosto quindi andare in vacanza in questo lasso di tempo in cui ancora le vacanze perdurano e l'anno scolastico non è cominciato è più piacevole beh questo è un piccolo parere personale e allora passiamo attraverso l'almanacco del giorno per vedere chi si festeggia oggi eccolo è san raimondo detto non nato ovvero non nato non nato perché perché raimondo fu estratto dal ventre della madre quando questa purtroppo morì di parto allora era un'operazione medica non si chiamava parto cesareo ma fu un'operazione che riuscì grazie appunto alle conoscenze dell'epoca e siamo nel tredicesimo secolo da giovane raimondo entrò nell'ordine della beata vergine della mercede quell'ordine che era stato fondato poco prima da san pietro nolasco con l'obiettivo di riscattare i prigionieri cristiani fatti schiavi dai turchi fatti schiavi dai pirati musulmani ebbene raimondo andò ad algeri e si offerse in cambio dei prigionieri lui stesso come ostaggio ebbene raimondo fu tartassato in maniera insomma molto molto pesante fu torturato flagellato corse anche il rischio di essere impalato finché non giunsero i soldi dalla spagna per il suo riscatto e allora fu liberato ebbene in tutto questo periodo di travaglio personale raimondo continuò comunque a predicare il vangelo e anche a fare delle conversioni quindi fu veramente un santo che nonostante le tribolazioni battite continuò la sua opera pastorale e allora dopo il santo del giorno passiamo alle previsioni del tempo ecco la grafica giornata ancora pienamente estiva su tutta la regione con una modesta attività cumuliforme pomeridiana in appennino il clima è molto caldo come quello di ieri praticamente la temperatura è la stessa 22.000 gradi la minima e 30 gradi la massima i venti ispireranno nell'interno da est mentre sulle coste da nord nord est il sole è sorto alle 6 e 18 e tramonterà alle 19 e 47 le giornate di luce cominciano ad accorciarsi ciò detto passiamo dunque all'esame alla rassegna delle notizie a partire oggi dal Corriere Adriatico ed eccola la pagina di Fano siamo ancora in argomento per gli scavi di piazza Andrea Costa ebbene ormai siamo alle battute finali perché ormai l'amministrazione comunale ha assunto le sue decisioni procederà con i lavori come già programmati e tra una quindicina di giorni dovrebbe terminare gli scavi nel secondo settore che è stato indagato quello che si estende dalla pescheria a via Montevecchio però c'è ancora tanto da scoprire ha dichiarato l'archeologo Gabriele Baldelli che ha passato una vita di lavoro alla soprintendenza delle Marche e poi è stato anche soprintendente in una località dell'Umbria ebbene Baldelli è soddisfatto solo in parte degli scavi archeologici in piazza Andrea Costa dice che è un delitto così trascurare anche i resti medievali perché i resti medievali sono importanti e costituiscono la documentazione di una fase importante della storia della città è stato ritrovato l'ingresso di una cripta della cripta della chiesa di San Daniele che è stata poi demolita all'inizio del 1900 era una chiesa di carattere medievale sono stati trovati i scalini che conducono alla cripta ma più che due scalini non è stato più indagato null'altro chissà forse questa cripta poteva avere ancora la sua volta integra poteva essere affrescata insomma ci sono delle testimonianze della fano medievale che devono essere non solo preservate ma anche valorizzate pensiamo per esempio all'abside di San Mauro nel cortile del Sant'Arcangelo pensiamo alla chiesetta di San Pietro in Episcopio nei pressi pensiamo all'orudere dell'abside della chiesa di Santa Maria dell'Arzilla alla foce del torrente insomma sono testimonianze di tipo romanico medievale che costituiscono un pezzo importante della storia della città e forse quella cripta avrebbe potuto così aggiungere un valore in più a questa storia ma passiamo ad altro passiamo ad altro e vediamo che c'è ancora una notizia in merito al crollo del soffitto del contro soffitto che si è verificato l'altro giorno all'interno del centro natatorio natatorio nuotiamo la piscina che è stata realizzata dalla fondazione Carifano nei pressi dell'aeroporto ebbene i danni ammonterebbero a 10.000 euro una somma piuttosto rilevante perché poi l'acqua cadendo il contro soffitto cadendo ha rovinato mobili impianti di cucina congelatore con tutte le sostanze che c'erano dentro insomma ha creato parecchi danni già al lavoro comunque i consulenti dell'assicurazione ci sono tre assicurazioni che sono state sottoscritte in questo impianto una della piscina una del bar e una delle due associazioni società di gestione dell'intero impianto quindi probabilmente i danni verranno risarciti appunto da chi doveva compiere i lavori nel modo dovuto c'è stato ieri poi il passaggio di consegne all'ufficio circondariale di Fano tra il vecchio comandante che Stefania Battista tenente di Vacello Stefania Battista che ha passato il comando a Maria Giovanna Trombetta una nuova comandante anche lei tenente di Vacello proviene dalla Puglia è nata nel Gargano ha 32 anni per la cronaca non è sposata non è fidanzata insomma però dedita molto molto al suo impegno lavorativo il suo impegno di responsabilità per quanto riguarda la gestione dell'ufficio circondariale di Fano un'importante presenza dei militari che si dedicano soprattutto alla sicurezza della navigazione in mare quindi delle barche ma anche degli equipaggi e dei bagnanti che fanno il bagno qualche volta in maniera imprudente sulle nostre coste una bella cerimonia dunque passaggio di consegne che si è svolta nel prato della Darsena Borghese e forse questa è una cornice che si adatta molto di più che la zona antistante all'ufficio nei pressi del ponte che valica il porto canale nella zona del Faro insomma una bella location così come si dice e a proposito di location diamo un'occhiata anche a questo articolo a fondopagina della seconda pagina del Corriere Adriatico Caire film girato in città dall'attore Divo in Francia ebbene ieri il sindaco di Fano Luca Serfilippi ha accolto nella sala della Giunta Emanuele Giorgi Emanuele Giorgi è un fanese un fanese doc è nato nella nostra città ha frequentato le scuole gli elementari le medie ha fatto poi il liceo classico Nolfi e poi ha voluto fare l'attore ed è andato a Roma dove si è perfezionato in una scuola di recitazione e poi ha spiccato il volo a Parigi e qui pensate da dieci anni è diventato un divo della televisione partecipando ad uno sceneggiato ad una telenovela che ha avuto oltre 300 puntate appunto in dieci anni ed è diventato veramente un personaggio molto popolare in Francia ed è fanese ebbene dopo questa sua esperienza da attore ha voluto realizzare un suo sogno quello da regista e ha voluto realizzare un suo film al momento sembra che sia un cortometraggio ma che è suscettibile per diventare un film a lungometraggio girandolo nella sua Fano dove ha trovato delle location in tutta la città e anche all'interno della sede comunale Caire questo è il titolo film girato in città dall'attore Divo in Francia e ora vediamo un secondo articolo di apertura del Corriere Adriatico attenzione perché questo è un articolo interessante entrano in auto senza scassinare i ladri veramente le pensano tutte si giovano anche dei progressi della tecnica una signora che aveva parcheggiato la sua auto all'interno del parcheggio della caserma Paolini ha trovato la sua auto integra non era scassinata ma all'interno era buttato tutto all'aria ebbene si pensa che ormai i ladri si giovino di un dispositivo che diciamo così che utilizzando un segnale clonato per quanto riguarda il telecomando riescono ad aprire lo sportello dell'auto e poi entrare dentro rovistare il tutto la ricerca di qualche valore questa volta hanno rubato 50 centesimi pensate ma per fortuna non hanno fatto danni questa è altra cosa importante però bisogna fare attenzione non tenere nulla di valore all'interno delle auto quando poi uno si assenta perché poi questo può attirare l'interesse dei ladri e ora si giovano di questi dispositivi vediamo ancora sulla pagina della Val Metauro siamo a Cagli un ingente investimento da parte dell'amministrazione comunale per quanto riguarda la rete fognaria la progettazione e la realizzazione dei lavori in questo caso sono relativi ai danni provocati dall'alluvione che si è verificata il 15 settembre del 2022 e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha erogato al Comune tramite una struttura commissariale quella appunto che deve riuscire a riparare i danni dell'alluvione un finanziamento di 6,8 milioni di euro per opere urgenti quindi veramente un contributo ingente ingente vediamo questa bella iniziativa invece che si svolge a Calmazzo Calmazzo è una località archeologica importante nei pressi di Fossombrone ebbene guiderà una visita interessante al recinto sepolcrale il docente di archeologia dell'Università di Urbino Oscar May che i fanesi conoscono perché il direttore scientifico del centro studi Vitruviani martedì ci sarà questo appuntamento alle ore 20 a Calmazzo con il professore May che guiderà una visita al recinto sepolclare della famiglia Cissonia a Calmazzo seguirà poi il momento di ristoro organizzato dall'Associazione di Quartiere e alle 21.15 ci sarà uno spettacolo della compagnia romantica più centro teatrale universitario Cesare questa quindi che vuole passare una bella serata martedì prossimo può da tutta la provincia può andare appunto a Calmazzo e fare una bella immersione sulla storia e sull'archeologia della località passiamo a Barchi a Barchi il comune sembra che abbia pagato un'area senza fare il rogito e quindi senza entrarne formalmente in possesso allora il sindaco Sebastianelli è costretto a rievocare la delibera per riavere indietro 38.000 euro ebbene il tutto è stato scoperto recentemente il comune di Barchi dal 2017 municipio di Terre Roveresche nel 2008 stabilì con una delibera di consiglio l'acquisto di questo terreno che si trova in via Bartevecchia ebbene è stato pagato e la somma era di 30.000 di 30.000 euro però insomma il comune non è mai diventato proprietario l'ha scoperto quando ha fatto una ricognizione dei beni che gli appartengono ebbene quest'area non c'era ci doveva costruire una scuola e in più quest'area poi non è stata dichiarata edificabile perché è in pendenza e quindi insomma la situazione deve essere riportata allo stato originario una disavventura per una donna mamma di una ragazza a cui è stata staccata la luce elettrica senza luce elettrica non va nemmeno il congelatore con la rovina di tutto quello che c'era dentro insomma gli elettrodomestici non funzionano e la luce non c'è che cosa è accaduto sembra che la donna cosa che lei nega abbia revocato il contratto della luce stessa però insomma questa 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 decisione non è stata non è stata accertata la donna nega di aver disdetto appunto il contratto le staccano la luce con la figlia si rifugia da un'amica una giovane mamma scopre una disdetta a suo nome ma io dice non l'ho mai inviata beh questo capita anche a livello burocratico vediamo la pagina di Senigallia pane nostrum cantagiro e paltrinieri un'estate di urlo che continua a Senigallia perché anche il mese di settembre sarà molto ricco di manifestazioni occhi già puntuati all'autunno a novembre il tour teatrale di Mario Biondi e di Malika Aiane ebbene soddisfatto il comune della stagione turistica che si avvia a conclusione almeno per quanto riguarda l'alta stagione ma dire che la stagione turistica si avvia a conclusione probabilmente non è esatto perché la stagione turistica continua probabilmente si avvia a conclusione l'alta stagione ma come dicevo settembre e ottobre sono ancora mesi propizi per passare una bella vacanza nelle nostre località l'estate al momento continua non abbiamo ancora i dati ha detto il Simona Romagnoli che è assessore al turismo non abbiamo ancora i dati perché la stagione è in corso ma l'impressione che abbiamo avuto è che si è andata bene si è andata bene e allora ci saranno tanti altri eventi dicevo nel mese di settembre un evento tira l'altro ieri sono terminate due fiere quella di Sant'Agostino e la fiera campionaria quella che è seguita alla fiera di San Bartolomeo di Fano ed ora il mese di ottobre di ottobre mi sembra sì è quello vedrà il ritorno di Pane Nostrum dall'11 al 13 poi ci sarà la finale del Cantagiro che si terrà in città dal 29 settembre al 5 ottobre il 14 e il 15 settembre ci sarà un evento con il campione olimpico Gregorio Paltrinieri e ogni giorno qualcosa ci sarà da fare in città quindi veramente continua per la cronaca vediamo che in camera di un pusher 34enne di Senigallia sono state trovate droga e 216 mila euro arrestato il pusher della Movida si tratta di un 34enne che è stato sorpreso con 5 kg di marijuana ascis cocaina MDMA spacciava sul lungomare ed era un rifornitore importante insomma aveva una larga platea di clientela appunto a cui dare le dosi di droga vediamo anche la pagina di Pesaro dedicata questa volta ad un intervento pubblico di opere pubbliche si parla della scuola Manzoni cantieri aperti inizierà l'anno scolastico con il cantiere in corso d'opera ma questo secondo quanto ha dichiarato la dirigente Mattioli non influirà con le lezioni con l'attività didattica dei ragazzi stessi quindi la dirigente tranquillizza i genitori didattica e i lavori sono compatibili ha detto stagione lunga c'è il nodo salvataggio anche a Pesaro si cerca di prolungare la stagione turistica si invitano anche i bagnini a non chiudere gli stabilimenti ma c'è il problema del salvataggio se una concessione di spiaggia continua a lavorare occorre che i bagnini assicurino il salvataggio i gestori devono garantire il Baywatch cioè voglio dire quel sistema di controllo della battigia del mare antistante la spiaggia in modo che non si verificano disgrazie se c'è qualcuno in difficoltà ci sia sempre pronto qualcuno ad intervenire e intanto il comune prolunga assicura il servizio nelle spiagge libere in questo weekend e anche nel prossimo quindi ci inoltriamo anche nel mese di settembre nuovo ospedale nuovo ospedale di Muraglia quando cominceranno i lavori ma sembra che ancora dopo gli ostacoli del passato continuano a verificarsi i problemi tramite una interrogazione il Partito Democratico presente in regione con la consigliera Micaela Vitri cerca di sapere di più per quanto riguarda la situazione dei permessi obbligatori dei permessi delle diciamo così dei pareri ecco dei pareri statali che mancherevano tutti e quindi la cosa si prolunga ancora di più insomma una fase burocratica complessa lunga che precede l'avvio esecutivo appunto dei lavori e questo insomma sollecita la regione ad abbattere i tempi e cercare finalmente di trovare una soluzione per realizzare questa grande opera e allora passiamo ora al resto del Carlino l'apertura l'apertura è dedicata al cantiere del Porto caratterizzato da questa grande mola di un nuovo capannone che è sorto che avrebbe dovuto avere anche una formula architettonica compatibile con la vocazione turistica della città invece al momento è rimasto ancora uno scatolone è il cantiere della Wider la brutta cartolina del Porto intitola il resto del Carlino riprenderemo in mano il progetto ha assicurato l'amministratore delegato Fabio Fraternali che dopo la fiera di Cannes che si svolge tra il 10 e il 15 settembre ha detto che si riprenderà in mano il progetto già condiviso con il comune e la sopraintendenza per dare un aspetto architettonico pregevole a questo edificio che al momento è semplicemente un cubo posto sulla zona sull'area del porto di Fano ed è insomma un cantiere che ha suscitato non poche polemiche comunque è un cantiere che assicura molto lavoro e che in piena fase organizzativa già nei giorni scorsi è stato varato un altro catamarano molto molto tecnologicamente avanzato ha sfornato yacht super tecnologici e da metà settembre si metterà a mano anche alla riqualificazione architettonica della struttura anche il Carlino interviene sui danni che ha provocato la rottura di un tubo alla piscina nuotiamo nuova piscina un danno da 10.000 euro e intanto questa sera inizia anche a Fano la nuova edizione dell'incontro internazionale polifonico città di Fano che ieri sera ha debutato nella chiesa di San Giovanni a Pesaro incontro internazionale città di Fano una rassegna dedicata tutta alle donne emblema è il mito di Ipazia la matematica e filosofa lestandrina che è stata poi uccisa per una reazione antifeminista dalla parte della cultura dell'epoca comunque si dedica ci sono tutte le donne donne compositrici donne esecutrici donne ovviamente esperte nella polifonia donne cantanti sono molti i cori che si esibiranno in città quindi avremo veramente una decina di giorni ricca di canti di movimento di atmosfere e sono anche di gruppi che provengono a Fano dall'estero con un importante rilievo dal punto di vista turistico terreno pagato ma il rogito non c'è anche il Carlino interviene su quanto avvenuto a terre roveresche la precedente amministrazione acquistò un'area a barchi Sebastianelli il sindaco ridatici 38 mila euro si cerca di aggiustare questa situazione a Urbino a Urbino si parla della galleria che ancora oggi è a senso unico la galleria posta nella viabilità tra Ferminiano e Urbino che è stata interrotta in seguito a quel bruttissimo incidente che si è verificato a dicembre in cui sono morte anche alcune persone ancora i lavori non hanno ripristinato il doppio senso in questa galleria c'è un diverticolo che passa nella vecchia strada che è stata anche asfaltata insomma con questo articolo si cerca di accelerare i tempi per ripristinare una viabilità sicura più breve tra Ferminiano e Urbino intanto nella città Ducale si svolge la festa dell'Aquilone che va verso il Clou come cambia la viabilità della città insomma si vuole un po' di sacrificio per avere questa bella festa ad Urbino scappano all'alto e si dileguano in seguimento in diretta social è accaduto ad Acqualagna un inseguimento al Cardiopalma giovedì notte verso le 11 di sera 11.75 ad Acqualagna una moto non si è fermata all'alto i carabinieri sono posti all'inseguimento ma insomma i due che erano in sella sono riusciti a fuggire e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci